Ciao a tutti, io sono Andrea e benvenuti su Fortnite insieme a Luca. Stavolta ci abbiamo il timer, così non siamo più scemi. Anche prima lo eravamo, e ora anche di più. Ma lo siamo comunque. Oggi siamo su Fortnite, nella MC, che a Luca piace un sacco, non capisco cosa gli piace. Armi proibite? Minigarn, Arkham, Cure, eccetera. E non scopo la facciamo dopo. Vabbè, nell'anoscope facciamo, no, in un video posso fare perché poi ho un paio di problemi. Un attimo la tastiera. Ok, brava. Gli ho dato un paio di pizze. Allora, quanto sono forte, perché il video non sono uscito. Sì, non sono mai uscito. Ragazzi, c'è un bug nella mia tastiera che io lo odio, perché inizia a non prendere più il personaggio. E quindi io devo sbatterla due volte, io devo dare due colpettini. Ma anche io, Luca, sono migliorato, eh. No, ma what? Luca mi ha distrutto tutto. Io mi cavo meglio qui, ecco. Oh, grande, Luca. Bella. Belit, cosa ti devo dire? No, eh, non le trappole. Cosa hai messo? Eh, non t'ho visto. Ha avuto paura per l'acqua. Ragazzi, comunque, abbiamo creato un team. Non me lo dobbiamo ancora scegliere. Ehm, praticamente, quelli che giocano da Play e da PC, però non Apple, i provini li faccio io. Se volete il nome, c'è lì sopra, io lo accetto, ti ho chiesto. Mamma mia, come l'havo. Vai, parla, parla, parla. Però, ehm, quelli che sono da Apple, devono fare il provino con me. Beh. Così potete parlare con noi, facciamo dei provini. Il team non l'abbiamo. Mi sorprende, perché la cosa bella, sai qual è stata? Io mi sono messo indietro. Sono rimesso avanti. Mi sono rimesso indietro. Sono rimesso avanti. C'è chi è nato? Cioè, io non lo so. Eh, però basta, andai lì sopra. Oh, senti, non me la distruggere. Ti vai distruggere, ti puscio. Oh, ma che razza ditta hai fatto? Ma ti sei buttato giù da solo? Sorry. Arrivo. Che mia di cacca che c'ho io con lo scarro ormai. Cioè, un tempo mi sei... Luca, tu adesso hai il controller. Eh? Hai il controller. Sì? Eh, perché lui... Voi dovete sapere che lui... Quando gioca bene ha il controller. E quindi, eccoci qua. E tu giochi a PC? Ho capito, ma io gioco a PC, Ma ovviamente il controller è meglio. Hai meno... E la tastiera... I comandi sono meno grandi, diciamo. Luca... I comandi sono meno grandi. E quindi hai meno... Difficoltà. E più spazio per giocare. E più modi. Ma what? Giù. Ciao. No, Luca, tu adesso muori, eh. No, 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 no. Ti va anche il Rush. Grazie, ciao. No, 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 non valgono le cure. Luca, stacca anche il controller. Mi stai facendo fare una figuraccia. Sono forte. Eh, con il controller. Prendo questo che mi va meglio. mamma mia non mi può battere nessuno eh chiamo ninja eh non puoi stare lì andrà a fermo oh che parata ho fatto una parata si adesso arrivo sono cambiato tasto per eh per le trappole comunque te lo volevo dire ora ho quattro perchè io per la quarta arma uso X e per la quinta Z mi fa schifo me lo spasse abituata alle battle royale lo spasse non lo uso più oh perchè non c'è più qui appunto io non lo uso più lo spasse quindi per me posso prendermi un altro un altro pompa si basta che non è il combat no anzi il combat lo puoi prendere vabbè mi prendo il combat vediamo un pochettino come va anche se danno nel fattico è scarso si lo so però vediamo perchè c'è almeno quello almeno lo sai cosa non piace del bus che tu appena Luca però quando sono in volo te la potevi risparmiare appunto quando sono in volo mi distrutto mi distrutto eh però sai che ti dico che mica fa così tanto schifo rispetto al spazio delle mie mani andrea puoi salutare il mio cugino posso puoi salutare il mio cugino ehm si saluta il youtube ciao ciao vabbè si per cuore ti ha salutato? no non sei per buono no dai stai tranquillo allora aspetta vuoi entrare nel nostro team? ma? Rocco 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 vuoi entrare nel nostro team? è importante grazie già è il primo venuto eh ok 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 cosa ha detto? eh ha detto un fuori ma è bravo? è bravo a giocare è giocare dal switch quindi fare il provino con te? si mannaggia mamma mia che scatti Luca tu non hai idea degli scatti che sto avendo forse in video neanche si capirà io in questo momento sto giocando con la grafica e la qualità di scatti c'è faccio di ping e mamma mia faccio 110 faccio 110 di ping Luca cioè tu mi dici come cacchio faccio a fare una sfida a pompa contro uno che è forte se ho 110 di ping c'è melata Andrea dunque uno sui commenti è scritto che sono più forte io guarda che video non li abbiamo pubblicati no su un commento del video di Fortnite è l'ultimo e uno è scritto che sono più forte io guarda guarda che non ci hanno mai visto giocare insieme questo è il primo non lo so scusami scusami come fai a saperlo no ma io adesso aspetta Luca sto un attimo fk e quello è il commento si un attimo glielo vado a vedere perché io non leggo tutti i commenti cioè vabbè che vabbè però già che scrivo il primo commento è già tanto allora quello di Fortnite guarda che ne ho fatto Luca è più forte o più scarso dite ah una domanda li metto sopra e gli scrivo col mio secondo account è più scarso eh certo è fortissimo no 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 aspetta gli rispondo dopo con l'account gli rispondo dopo con l'account originale e gli metto il cuoricino io metto il cuoricino a tutti quelli che fanno i commenti basta che non c'è ti auto votato la casa con l'altro account cosa? ti sei auto votato la tua casa con l'account si esatto no no Luca non lo dire perché se dopo ti spiego il perché perché si capisce no 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 Luca non lo dire perché dopo si sa il mio nome e un'altra cosa quindi basta che vanno la e mi vedono quindi meglio se non lo dici ok ho fatto una cavolata per scherzare però è bello oh Luca è più scarso o più forte di te ma sapete che non lo so in realtà perché se gioco con poco ping è probabile anche te lo batta eh però se mi lagga così mio caro fan oh dai dai vedi oh Luca ti ho fatto col P99 quanta vita avevi eh quanta vita avevi con quanta vita avevi eh io ho decidi vita ah ma io ti ho fatto 9 come fai ad avere 10 forse anche t'avevo presa anche con lo scherzare c'è un hp ti lascia comunque in vita ecco oh oh eh turpin guarda non lo puoi usare ma perchè ma perchè non lo posso usare è troppo spammoni ma non è vero la minigane spammona no va bene io lo metto qua ok camperone in realtà Luca Luca il microfono aperto su anche se siamo in chiamata il microfono aperto su fortnite oh 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 no 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 il backpack no 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 infame mi approfitti ti hai rimesso in una posizione ma adesso ti distruggo cioè tu forse non hai capito comunque è più forte o più scarso di me sapete che in realtà se facciamo sulle batte royale è possibile che vinca io o vinci tu cioè mica lo so un attimo che mi si è spento il timer un attimo si è spento il timer Luca mi si è spento il timer già l'ho distrutto ok mancano 2 minuti e possiamo finire il video con io 0 kill e tu 9 10 quante ce l'hai? no Andrea se io gioco da play e da play vinco perchè io ho i testi diversi qua eh quindi io sono più forte io si vabbè quando giochi con le tue cose buone come faccio io avere perchè io sono abituato a giocare le cose no ma la cosa bella è che io gioco ma io più che abituato a giocare da PC ero più abituato a giocare da iPad come bene sai perchè io prima del PC giocavo da iPad e quindi ho lavo tutte le skin e anche tutto allora Luca vieni fuori fatti vedere fatti vedere no Luca parla Luca parla Luca parla allora ok raga si è mutato raga si è mutato e per non far sentire il retro vabbè Luca dai Luca 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 ok ok e grazie ma vanno l'avevo capito senti vieni 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 Luca Luca ma è è la doppietta è l'unica cosa ma appunto è la doppietta non è possibile che tu abbia lo spas hai la doppietta si ho la doppietta e lo spas ma come? hai la doppietta e lo spas ma tu chi sei? c'è doppio pompa Luca non si è mai visto neanche nel 1940 ed è vero che Steph dice la gente strana su fortnet è troppo pompa no in realtà si sa che il double pump cosa? e vabbè si double pump tanto tempo fa adesso il pump va veramente schifo double perché c'ha la cosa della ricarica e quindi che mi danno stai tranquillo ti faccio finire l'iground e non è che non si dica quanta vita hai? poca adesso muoio adesso muoio no basta con sto iground Luca ma tu che mossa hai tutto un giorno di questi mi devi dare una mano a migliorare ma sai cos'è che a me mi blocca? eh che a me blocca non a me mi a me blocca è che io sto facendo in video e quindi devo parlare e io di solito quando gioco a fortnet o guardo i video degli altri o sto zitto cioè per farmi capire la mia varietà di cose mira io stavo editando cioè ma allora ragazzi questo è l'ultimo minuto in cui possiamo registrare quindi adesso farò una piccola chilettina se riesco adesso ne faremo giusto un altro adesso eh appena finiamo questo siamo a 14 e 18 c'è un altro video no io direi che ci possiamo fermare qui e adesso iniziamo a registrare l'altro ok sempre in questa mappa va bene? si beh noi ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi al canale ci vediamo in un prossimo video ciao